Ci risiamo, viabilità da bollino rosso per il cantiere Anas per la sostituzione dei New Jersey allo svincolo di Abbadia fra la provinciale 72 e la superstrada 36. Le ripercussioni dei lavori in corso da qualche settimana si stanno facendo sempre più pesanti con la ripresa delle attività e delle lezioni in presenza. C'è chi oggi è impiegato più di un'ora per andare da Mandello a Lecco. Dopo giorni di disagi il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli ha interpellato e esasperato il prefetto di Lecco. Lunedì, di chiaro al primo cittadino, le scuole riprenderanno con le lezioni in presenza al 75%. Per venire incontro alle esigenze in materia di orari degli studenti e limitare disagio alle famiglie abbiamo messo a disposizione una serie di bus aggiuntivi. In queste condizioni di traffico i ragazzi non arriveranno mai in tempo per il suono della campanella. Mi chiedo, ma che senso ha tutto questo? Fasoli punta il dito contro chi doveva vigilare sui lavori di Anas, vale a dire la provincia di Lecco. Il comune di Mandello spiega che ha messo in atto tutto il possibile per limitare i disagi rispetto ai lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa al di sopra della sede della Cannotieri Motoguzzi. Il cantiere di Anas allo svincolo della superstrada è altrettanto importante, conclude Fasoli. Ma è possibile che non si possa trovare una soluzione diversa? Dopo i problemi di traffico la provincia in passato aveva chiesto a Anas di smantellare il cantiere nei fine settimana. Riteniamo necessario che questi lavori vengano completati quanto prima, commentano il presidente Claudio Usuelli e Mattio Micheli, consigliere delegato alla viabilità. Auspicando che, considerata la particolarità dell'intersezione, venga individuata una modalità provvisoria che consenta di favorire l'immissione dalla 72 sulla statale 36, attualmente molto difficoltosa riducendo anche la velocità dei veicoli in transito sull'arteria principale.